Marco Ceron Guardia Entusiasmo Entusiasmo Quest'anno ho grandi stimoli, grande squadra, grande roster, tutti nuovi, però la partenza è giusta Beh, sono importanti, comunque riescono a tenere contatto con molte persone, molti amici, anche magari persone che sono distanti a te E' un modo per tenersi aggiornati L'anno scorso avevo tre e ho detto cambio Non mi è piaciuto, prendiamo il quattro Lo usava mio padre quando giocava, però non è stata una scelta di cuore Gran amico, più che gran persona, davvero un valore aggiunto per questa squadra Grande stimolo, comunque hai di fronte gente molto più forte, molto più atletica, sarà da lavorare più Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti